che sappiamo di noi so che siamo qui tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 che colpa ne abbiamo non lo so ma questi erano comunque fra contale e coez con che colpa ne ho proprio loro proprio loro proprio loro roba nuova che non sentiamo mai la mattina l'alta rotazione l'alta rotazione l'uomo di radio dovresti si 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 del radio c'è un problema è nel braccio si appunto stavamo anticipando la grande notizia di giornata domani lo sciopero generale non sarà grande notizia di giornata l'incontro l'incontro su cui tutti gli occhi e su cui tutti gli occhi del mondo non è quello tra Biden e Xi Jinping ma quello tra Landini bombardieri dico solo che ieri sera ero così stanco che ho aggiunto questo schette di G24 e c'era incontro Biden e 11 ho letto al posto di Xi ho letto 11 ho letto 11 ho pensato che quella di Stranger Things fosse un incontro con Biden penso che ero stanco ieri sera non mi ricordo come l'aveva chiamato Di Maglio l'aveva chiamato se non sbaglio il presidente Xi che è come dire il presidente Giorgio appunto una roba del genere però potrei sbagliarmi comunque sostanzialmente lo sciopero generale di domani non sarà più generale perché è stato ridotto a 4 ore la gestazione è stata ridotta a 4 ore per quanto riguarda Milano specificatamente ricordiamo che lo sciopero non toccherà i mezzi pubblici di ATM e il comune ricordiamo che ci tende a ricordare che comunque aria B e C saranno attive normalmente questo lo dico a passante perché non sono ancora passati i 10 giorni previsti dalla legge dall'ultimo sciopero ossia quello di venerdì scorso non sono passati i 10 giorni richiesti dalla legge mentre per quanto riguarda Trenord è diverso perché potrebbero esserci problemi infatti se ci spostiamo sulla pagina proprio di Trenord dice dalle 9 alle 13 di venerdì 17 è previsto uno sciopero che non coinvolge il personale ATM a cui potranno aderire però i lavoratori delle imprese che gestiscono le infrastrutture Ferrovie Nord e Gruppo FS italiane ma capito quindi sostanzialmente però ha ridotto gli orari esatto 4 ore quindi sostanzialmente ATM non c'è problema Trenord potrebbero essere previsti disagi dalle 9 alle 13 non ci sono più le famose fasce orarie di prima perché? perché il ministero delle infrastrutture ha ridotto l'orario dello sciopero a 4 ore chiarissimo invece ringraziamo intanto Alberto che ci scrive al 33178535555 scrive buongiorno e buon giovedì a tutti gli amici del mattino di Crystal Radio buongiorno ai giovedì oggi giusto ho dimenticato di mettere fuori il sacco dell'immunizia il giovedì mattino devo metterli fuori infatti tra l'altro ho letto che ci potrebbero essere scioperi dell'AMSA domani noi non abbiamo ritiro in cielo per Milano ho visto molta spazzatura rispetto al solito stamattina sai che anche ieri in grattosoglio ho visto effettivamente dei montoni di non so magari c'è stato qualcosa in ritardo magari proprio l'orario l'influenza, il covid adesso sono uscito 5 minuti prima che arrivasse le cavallette di tutto però è vero è il giovedì qui in zona San Siro dobbiamo mettere fuori l'indifferenziato mi sono dimenticato stamattina di metterlo fuori adesso vedo faccio un salto magari tra una canzone e l'altra a portare fuori il sacco dell'indifferenziato voi la fate la raccolta differenziata? mi raccomando fate i bravi perché sai che siamo una delle città più virtuosi in Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata? ricordiamo che il comune di Corbetta ha vinto il premio riciclone è vero è vero andiamo avanti luce verde buggyman Gali insieme a Salmo alle 7.20 21 anzi in questo istante qui su Crystal Radio a Good Morning in Milano l'abbiamo detto che domani lo sciopero generale è stato ridimensionato quindi sciopero parziale non più generale beh ancora un po' rispettavano a dirci ma ormai tutti si saranno organizzati tutti hanno chiamato zii, cugini parenti per far portare i bambini a scuola si le scuole le scuole non fanno sciopero trappare no perché è pomeriggio allora noi ci no 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 infatti dopo di prima poi non è vero dipende su quattro ore e punto e poi fa quando vuoi ogni categoria decide lui noi ci siamo ci siamo limitati al trasporto pubblico locale per le scuole adesso ci informiamo il fatto che comunque hanno deciso ieri è da vedere ma poi soprattutto già non ci andavo quando dovevo andare a scuola ma che me fai no scherzo scherzo ci mancherebbe che altre notizie arrivano dalla città caro il mio masieri sottolineiamo che ieri ennesimo blitz a Milano di ultima generazione all'arco della pace infatti circa sembrerebbero sette persone gli ecoattivisti così appunto si definiscono che verso le sedici sono ritrovati sotto l'arco della pace l'hanno imbiancato e hanno invertato il monumento è colorato un po' di colore dai grigio triste adesso è bello arancione una settimana a settimana all'arco della pace come la darsena è luogo di pubblicità eccetera quindi vabbè ah è vero vero l'ultima volta che sono passato dall'arco in bici c'era tipo una navicella sotto che era un qualcosa in costruzione che chiaramente non ho capito e sul quale chiaramente non mi sono informato ok però c'era qualcosa in costruzione sotto un'installazione adesso è anche colorato dai un po' la Andy Warhol e si sono anche la Pollock e si sono anche imbrattati e si sono imbrattati si sono incollati al pavimento poi sono intervenuti subito le forze dell'ordine chiaramente tutto questo per rivendicare una maggiore attenzione da parte dello Stato sui finanziamenti a industrie che inquinano e tutte quelle cose che già sappiamo in più questa volta hanno voluto aggiungere apposta anche sentivo leggevo il tema palestina hanno aggiunto anche il tema palestina anche dopo quello che è successo a Londra con Greta Thunberg esatto mi sa che non abbiamo parlato alla radio no abbiamo parlato per i fatti nostri esatto cosa è successo a Londra durante una conferenza nel momento in cui stava parlando Greta Thunberg e non stava parlando di ambiente ma ha toccato temi politici come appunto il conflitto arabo-israeliano cosa succede che interviene se non ho capito male uno di loro cioè uno di quella cricca diciamo un altro di quelli grandi esatto per dire siamo qua per parlare d'ambiente non di politica strappando il microfono a Greta Thunberg e viene prontamente allontanato lui perché la lotta è transizionale ormai si usa questo termine e poi comunque il tema dell'ambiente ha a che fare anche con il tema della Palestina si sa appunto quello che è sono le risorse che vengono tolte si dice così appunto comunque io sono fan della settorialità sì no non avevo dubbi non avevo dubbi e infatti quando magari tu c'è tanto che tu mangi il pomodoro con la pasta e non che mangi prima la pasta e poi il pomodoro uno dei grandi dei movimenti recenti ti ricordo le sardine alla fine sono esplose perché sono esplose perché c'è stato il covid letteralmente due giorni dopo le elezioni nel Mila Romagna e sono esplose però anche bene anche bene che adesso le sardine siano collegate a quella campagna elettorale a quella specifica elezione chissà se non ci fosse stato il covid cosa sarebbe stato poi delle sardine boh ce ne mangieramo un savo come si dice in questi casi mi sa tanto andiamo avanti questi sono i Coldplay con Humankind Luiz Capaldi Someone You Love Me buon ritorno qui con noi a Good Morning Milano e su Crystal Radio che ricordiamo su 96.2 FM Dub Plus e sito internet e anche app di iOS Android e se volete rivederci Milano All News ovunque praticamente sito YouTube Twitch Instagram LinkedIn Telegram di Pinterest no Pinterest non credo si si riprendiamo con le notizie ieri sono usciti i 41 nomi di personalità e associazioni che saranno premiati il 7 dicembre dal comune di Milano per appunto nell'ambito dell'ambrogino d'oro tra medaglie d'oro medaglia a memoria gran medaglia d'oro quest'anno mi pare che si chiami quella appunto per l'università statale di Milano per i suoi 100 anni e poi appunto le civiche benemerenze tra i nomi partiamo con gli scartati via chi non se lo porta a casa l'ambrogino d'oro non se lo porta a casa il nostro amico Dan Peterson no non se lo porta a casa Marrakesh non se lo porta a casa Christian Bobovieri dopo il canzone alla robot tv basta e ha e tanti mi ricordo Modà mi ricordo Massimo Boldi e tanti altri e tanti altri chi verrà premiato chi verrà premiato allora con la medaglia alla memoria si ricorderà Alberoni Francesco e soprattutto appunto Giulia Tramontano tutti i giornali titolando così la ragazza 27enne uccisa lo scorso maggio giugno se non sbaglio attestate di civica benemerenza l'acri l'ambrate che citiamo molto spesso e la mera Ilaria che è chi è chi è magari il nome non è conosciuto ma chi è chi è chi è è sostanzialmente l'ispiratrice del movimento tende in piazza mi pare che si chiami tende in una roba del genere ossia gli studenti che protestano per il caro Fitti e caro casa davanti all'università principalmente il Politecnico se non sbaglio davanti alla piazza del Politecnico con le tende però ho visto che poi quella roba lì è stata presa e trasportata nelle varie realtà se non ho capito male fa sorridere posso dire che fa anzi proprio ridere l'idea di dare un ambogino d'oro a una che ha criticato aspramente il comune ma soprattutto che ha criticato così aspramente tutto che però niente è cambiato perché non mi sembra che sia cambiato assolutamente nulla quindi non so almeno fino al 2025 2026 quando ieri abbiamo visto che i posti elettorale statale raddoppieranno studentati ovunque così dai rendering studentati tutto quello che vedi davanti a te un giorno sarà uno studentato dai numeri fra 2-3 anni ci sarà l'unico uscirai troverai studenti che dormono anche così soppalcati in mezzo agli sparti traffico fatto sta che adesso io fossi uno studente del centro sud e non avessi una famiglia facoltosa alle spalle non prenderei in considerazione Milano invece tu sei uno studente della Bovisa con una grande famiglia più che facoltosa alle spalle e quindi non hai qui questi problemi come stanno i compagni della Bovisa i compagni della Bovisa lottano sempre insieme a noi un saluto al circo della Bovisa una volta stavo salendo mi affaccio e vedo che davanti al sindacato c'è posteggiata una moto con una bandiera con la faccia del martello attaccata dietro al posto del portacaschi di come si chiama del bauletto tutto questo era il 1974 2022 va bene this is Bovisa eccola qua invece questo è Caparezza la scelta 7.37 minuti good morning Milano ti è piaciuta? e beh ufficio programmazione lavora bene Caparezza la scelta e hanno scelto appunto i 41 nomi tra associazioni e persone che verranno appunto attestate dell'ambrogino d'oro in realtà ci sarà la medaglia d'oro la memoria la medaglia d'oro e le attestate di civica benemerenza anzi ci sarà anche la grande medaglia d'oro è la grande medaglia ho visto sul comunicato che l'ho divisa prima dicevo che la grande medaglia d'oro sarà quella insegnita all'università statale di Milano per i suoi cento anni tante grandi tre metri di medaglia tengo Franzini pesa 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 un casino no va bene non lo so comunque tra i nomi abbiamo visto che abbiamo ritrovato che esiste abbiamo trovato questo baccana Andrea ho chiesto baccana Andrea è il Pucci è il Pucci comico milanese il Pucci si porta a casa l'ambrogino d'oro il Pucci si porta a casa anzi la medaglia d'oro si porta a casa il Pucci pensa che quindi è ancora meglio invece delle civiche menemerenze troviamo la nostra amica che è Corti Dominic della fondazione Corti sono molto contento di questa riconoscenza oltre appunto come abbiamo detto prima la Merilaria che invece è la ragazza che ha dato via al movimento delle tende e anche abbiamo ritrovato Cascina Cuccagna complimenti anche alla Cascina Cuccagna il comitato mi impegno poi c'è anche abbiamo visto ah la fondazione Favestra dei Giusti adesso l'ho vista il Gariuo c'è anche quindi complimenti anche a Gariuo e alla Muba al Museo dei Bambini diciamo che allora mancano i nomi top quest'anno l'anno scorso ricordiamoci che sostanzialmente tutti titolavano Abba Tantuone e Cappato vincano la Brugina d'oro quest'anno tutti i titoli sono per la medaglia al valore per Giulia Tramontano abbiamo avuto problemi a capire che Andrea Baccan fosse Pucci ma sta renderizzando la pagina se scrive Andrea Pucci per gli Ambrugini d'oro però effettivamente nella lista non si trova poi abbiamo capito infatti ho visto adesso con una lista che è uscita dal comune di Milano e c'è Baccan Andrea tra parentesi in Arte Pucci capito che un giorno diranno Lorenzo Masini chi? Lorenzo La Bovisa capito ricordiamo Massimo Boldi che potremmo definirlo un po' cioè io penso che Andrea Pucci definisca Massimo Boldi un suo maestro mettiamola giù così ma se non lo fa lo puoi schierare ma deve Boldi adesso e lui è stato escluso hai capito chissà perché appunto penso per l'impegno nel sociale non lo so infatti non molto bene Pucci non viene infatti premiato solo per la sua carriera artistica ma anche perché comunque è uno di quelli impegnati molto nel sociale e molto in questa città quindi forse appunto per quello è stato riconosciuto ma andremo a sentire sentiremo sai che all'inizio dicono perché ti danno non è che ti dicono Lorenzo per il merito che ha avuto nel condurre per anni Good Morning Milano al fianco del favigerato e bravissimo Fabio Ranfi Lorenzo Masieri verrà insegnito della medaglia d'oro al valore civico Ambrogino d'oro o magari lo chiameranno Lorenzino d'oro e standing ovation standing ovation e diranno chi? così ma penso che lo faranno anche quando chiameranno Andrea Baccane ma dovrebbero farlo chi? pucci ah così dovrebbero fare effettivamente a meno che a meno che non voglia trascendere il sindaco Sala nel rispondere al chi dipende lì dipende sta lui chi? sto mezzo di artista dice no vedremo non credo se fossimo a Roma il rischio c'è effettivamente me lo vedo proprio Gualtieri che fa Andrea Baccanchi chi? sto artista vedremo comunque tutto questo il 7 di dicembre ah posso dare una notizia? prego il 7 di dicembre siamo in onda vedo la felicità del buon Masieri con uno speciale Sant'Ambrogio Annalisa ragazza sola non sarà sola invece questa sera Annalisa perché sai dove va? lo so però dimmi dove va eh guarda chiedimi dove va dove va Annalisa questa sera a X Factor questa sera sarà ospite di X Factor per la felicità di Morgan quindi vedremo come sarà andata tutta la questione risalente alla prima puntata dei live ma io posso dire come sapete non seguo però ho sentito lo scivolone barra non scivolone di Francesca Michelin povera su Ivan Graziani non ho capito perché si dice sempre scivolone o no cioè qual è il caso in cui non si tratta di uno scivolone ma allora perché non si è capito se ha posto mai la domanda o se proprio non sapesse che Ivan Graziani fosse morto però posso confessare una cosa cara Michelin se non sapevi che Ivan Graziani era morto sei in buonissima compagnia perché non lo sapevo neanche io tu non sai mai della gente morta no il problema è che io so di gente morta che invece non è morta tipo non mi ricordo chi è morto non è che lo sai un attore è morto l'anno scorso se non mi ricordo chi io pensavo fosse già morto cioè ha detto ah eri morto di nuovo e invece no così quindi poverina quando si parla in pubblico ma infatti ma ragazzi ma quante stupidate diciamo quella mattina infatti cioè se doveste verbi li sbaglio uno sì uno no se doveste estrapolare tutti gli errori che facciamo fatelo per favore così diventiamo virali vi prego di farlo per favore con tanti con tanti occhi puntati tanti spettatori eccetera cioè è chiaro che ogni cosa sulla quale sei certo ogni cosa è stato duettare con i ringraziani come è stato lavorare con lui infatti forse voleva dire duettare perché comunque nella canzone c'è il pezzo che è registrato e poi c'è il pezzo di quell'altro sono i miei colleghi chi è che erano con la pesce ah con la pesce ci stava no ma è come non so se avete visto Paoletta sei Paoletta nostra collega speaker che in un'intervista a Dua Lipa su Udini che sarà su Cristal Radio prossimamente Dua Lipa sì sì ma resident cioè viene a stare con noi la mattina qui resident cioè Dua Lipa gli dice ti sei ispirato a Udini per questo ah sì sì l'ho visto com'è questa ispirazione a questo personaggio e dice biblico allora prima di tutto lo dici in inglese fa una domanda in inglese tra parentesi nessuno ha notato in un inglese perfetto quindi hai voglia fatevi fare a Masieri dai vediamo infatti Dua Lipa You Songa Sing Dua Lipa You Songa Sing with Magician Magical in Udini così sarebbe stato sì ma che peggio se vedete il video perché c'è anche il video quando dice biblical fa una piccola pausa abbozza una sorta di virgolette intorno a biblico secondo me è stata una traduzione un po' vorrei dire mitologica non so come dire anche io non troverei un oggettivo per dirlo personaggio così importante comodini gli ha dato basta queste polemiche inutili basta per favore fatele su di noi che dobbiamo diventare virali io sono contro anche il prendersela per esempio oggi lo ricito non so perché di Maio quando c'era la famosa cosa che sbagliava i verbi eccetera ma ok sì se è un politico il discorso è diverso il discorso è diverso però uno che dice mille parole al minuto perché ha davanti mille telecamere cioè ci sta che sbaglio ogni tanto lungi da me l'attaccare il mio lo sanno tutti Matteo Renzi è sempre stato simpatico è impopolare dirlo quindi sono contento di dirlo non so come dire ma ecco forse lì io non riesco a difenderlo con Shish e compagnia bella perché lì invece denota il fatto che orcocante se il presidente del consiglio cerca di imparare due parole d'inglese ma non farei l'intervista io se posso il consiglio non farei l'intervista in inglese mi prendo una bella traduttrice un bel traduttore due me ne metto di fianco una a destra e una a sinistra e mi faccio tradurre da loro no tantissimi applausi tantissimi applausi non applausi per fibra come dice una canzone ma applausi per Tavaraleo buongiorno grazie buongiorno Fabio buongiorno Lorenzo buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici come state bene bene Tami grazie mille di essere collegata con noi grazie come sempre tu come stai che invece la settimana scorsa non stavi tanto bene ci siamo ripresi ci siamo ripresi si si è andata bene insomma come come tutti in questo periodo insomma ci sono dei periodi un po' così ma si torna tranquilla e quindi riprendiamo ripartiamo senza problemi ok allora avete fatto una settimana senza teatro infatti una domanda è questa e come hai fatto una settimana senza soprattutto andare cioè non sei andata a teatro non sei potuta andare immagino sono andata a teatro proprio sono stata chiusa in casa infatti e vabbè diciamo che si sopravvive anche se è un po' meno bene diciamo così ecco vedi 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 ma in realtà ma in realtà io ho una domanda per voi perché in questo periodo in cui ero a casa mi sono chiesta qual è l'ultimo spettacolo che avete visto a teatro è una mia domanda non mi ricordo come si chiamava ma era con al teatro la cooperativa poco prima dell'estate sì con due bravissime attrici di cui non mi ricordo il nome dello spettacolo non mi ricordo le attrici però molto bello devo dire no ma con la memoria che fa schifo però era molto bello il tratto la cooperativa sì con adesso lo cerco io ti ho lavorato per te questa settimana ah grazie mille io tantissimo tempo fa vado spessissimo al cinema il piccolo principe con la seconda media vado spessissimo no a redir mi sa di non mi ricordo dove non mi ricordo dove sai però con la scuola con le superiori quindi è passato è passato un po' di tempo diciamo che ne è passato un po' di tempo adesso io sto cercando di trovare delle cose che magari possano stimolare voi e i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici adesso questa settimana ho pensato a tre attrici a tre spettacoli che sono un po' legati al tema della prossima settimana del 25 novembre della giornata insomma diciamo che a me non mi piacciono tanto le giornate a tema però sicuramente ci sono delle tematiche che soprattutto in questo periodo sono molto forti diciamo così e ci sono degli spettacoli che secondo me vanno visti sempre però in particolare in questo periodo se vuoi parto vai 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 Tamara tutto tuo allora domenica posso dirti ho trovato che cosa ho visto come faccio a dimenticarmi Lucia Vasini come ho fatto a dimenticarmi Lucia Vasini ho visto Mozart 90 in blu ecco cosa avevo visto anche io alla cooperativa e devo dire che era molto divertente ma soprattutto puntava anche a un tema che non è molto raccontato di un'età anche non tanto raccontata in teatro ma in generale nelle storie quindi un'età un po' più avanzata soprattutto per le donne ma come ho fatto a dimenticarmi Lucia Vasini come ho fatto a dimenticarmi Lucia Vasini non succede niente dammi tanto come mai qui è Radio Casa Nostra la prima volta che ho visto Lucia Vasini penso era al 1992 avevo 12 anni e siamo andati a vedere una puntata di Sulla Testa spettacolo di Paolo Rossi fatto al Teatro Tenda di Baggio che non esiste più non è mai più esistito cioè l'hanno aperto per fare in un campo dove adesso c'è l'albergo delle pompe funebri proprio lo stesso e c'era ovviamente Lucia Vasini nel cast quindi da lì ci sono innamorati l'anno scorso ma quello quando avevi 12 anni sì pensa che so a memoria il monologo che fece quella sera che dice inizia per la felicità di ieri che lo nomirò in una città angusta in una soffitta angusta in una città angusta come angusta potrebbe essere Milano basta scusa prego 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 adesso il tuo momento non è il nostro momento però mi sento un attimo non è che proprio sono a questo livello però vado lo stesso allora domenica 19 novembre vi consiglio un reading che però è un'esperienza in realtà al Teatro La Barca in Via D'Oggiono MM2 quindi verde Sant'Ambrogio c'è lo spettacolo appunto questo reading Leggere Lolita Teran Cinzia Spanò è l'autrice di questo di questo reading e anche in scena e sarà in scena con Roberta Di Mario che l'accompagna al piano ed è appunto la lettura di Leggere Lolita Teran che è un romanzo bellissimo di Azarna Fisi molto molto attuale in questo momento e diciamo che è un modo per entrare dentro un altro mondo e assolutamente abbandonarsi alle parole di questo romanzo che Cinzia Spanò porta magistralmente in scena per entrare dentro la vita di ragazze che in realtà non hanno anche delle piccole libertà e quando acquistano queste piccole libertà per loro sono degli atti di resistenza e degli atti di consapevolezza per prendere coscienza di sé all'interno di una storia e sono quelle libertà che noi diamo per spuntate quindi devo dirti che io l'ho visto martedì in Statale c'è un evento in particolare in Statale legato a questo reading ed è un'esperienza meravigliosa peraltro accompagnata dalla musica originale di Roberta Di Mario quindi è un'esperienza unica La Barca Teatro La Barca che è un teatro molto piccolo in Sant'Ambrogio però devo dirti che è un'occasione unica quindi domenica 19 poi questo è il primo poi andiamo avanti ecco un'altra attrice meravigliosa che racconta di una storia di violenza che è uno spettacolo che ha alcuni anni ma che Valeria perdonò che questa attrice meravigliosa ha cambiato nel tempo amorosi assassini mette un po' i brividi l'idea dell'amore insieme alla parola assassini ma lei riesce a creare questa storia intorno alla alla vicenda di Francesca Baleani che è una vicenda vera di Francesca che è sopravvissuta all'aggressione del suo ex marito e in questa storia si parla di soprattutto consapevolezza di sé di non chiudere gli occhi davanti a quello che vediamo anche se non riguarda direttamente noi quindi le storie che vengono raccontate ci spingono a dire non voltiamoci mai dall'altra parte perché quello che accade oggi a qualcun altro domani può accadere a noi anche se siamo preparate anche se abbiamo tutti gli strumenti per poterci difendere ma in realtà diciamo così tutto può accadere e Valeria Perdonò fa una narrazione profonda attenta curatissima ma anche molto emozionante attraverso anche l'accompagnamento musicale di un artista che la sostiene e che porta dentro questo mondo pieno di violenza ma anche pieno di speranza per il futuro e adesso 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 Lorenzo mi sa che ce l'ha con te sì per Lorenzo perché non è così facile trovare teatro e cibo insieme ma in questo caso l'ho trovato perché un'attrice che io ho conosciuto solo ultimamente Chiara Claudi è un'attrice che lavora anche moltissimo con la voce fa uno spettacolo che si chiama Manuali di sopravvivenza sulla felicità attraverso delle canzoni fa un viaggio attraverso il nostro vivere nell'oggi nel nostro presente alla ricerca di schegge di felicità questo spettacolo lo sarà al centro Pertini il salice a Legnano e si può abbinare allo spettacolo la cena a una cena anche molto diciamo così con polenta gorgonzola diciamo molto concreta una cena molto sostanziosa quindi una cena che sattia la nostra mente e il nostro corpo ve lo dico al centro Pertini il salice di Legnano non è a Milano ma è abbastanza vicino a Milano e Chiara Claudi appunto fa questo scusate il 25 di novembre mentre scusatemi non l'ho detto ma Morosi Assassini sarà il 25 il 26 di novembre a Binario 7 di Monza non me ne vogliano quelli del Binario 7 Lorenzo non sta più capendo niente gli hai detto gorgonzola è la volta buona che torna a teatro almeno sai cosa faccio comunque sostengo i teatri andando scegliendo spesso i teatri che fanno anche il cinema nel weekend del pomeriggio piuttosto che multisala che io detesto anche io no i multisala li detesto anche io mi cazzo molto difficile il cinema teatro tipo il cinemino a Milano lo salviamo proprio con il rirotto della cuffia diciamo però sincero sincero no su quello la sincerità secondo me troverò uno spettacolo che in questa stagione Lorenzo andrà a vedere Massimo magari anche questo ripetiamo bene questo qui che dicevi tu allora Chiara Guidi sarà scusate Chiara Claudi sarà a il centro Pertini il salice a Legnano a Legnano quindi potete trovare poi le informazioni chiamando il centro Pertini il salice a Legnano con manuali di sopravvivenza sulla felicità che è una lezione psicologica cantata appunto dove tutti noi siamo un po' in attesa di un viaggio che stiamo compiendo cercando delle schegge di felicità che possano toccarci sempre con un racconto fatto con grande ironia e con grande voglia di condividere e c'è la possibilità appunto di fare la cena e poi di seguire lo spettacolo e si può vedere anche solo lo spettacolo però la cena è una cena anche molto appunto legata a un centro sociale quindi ad una diciamo convivialità comune anche quindi è un'occasione anche per un'atmosfera diversa rispetto a quelle che magari siamo abituati noi solitamente te lo sei segnato chiarissimo si stavo guardando adesso sta già controllando si è già aperto il google sta già guardando su internet ecco brava tammi ce l'hai fatta secondo me non lo so però adesso voglio cercare di capire i vostri gusti così devo cercare il modo di consigliarvi qualcosa di più specifico però vabbè famite posso dirti un'ultima cosa tutto quello che piace a te piace anche a me sapi ricordatelo posso dire un'ultima cosa fare il piaccione è una cosa più divertente vai 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 tammi scusa no siccome appunto sono stata a casa in questo periodo volevo consigliare un libro che a me è piaciuto moltissimo e che mi ha tenuto molto compagnia che si chiama libri di primo soccorso per l'anima di un sono tre autori bravissimi anzi due attrici è un autore bravissimo che sono Carolina Capri Massimiliano Ferrone e Mariella Martucci è un libro che consiglia altri libri è come una biblioteca virtuale che Carolina Massimiliano e Mariella mettono a disposizione dove ognuno può trovare conforto di quello che in quel momento sta cercando di superare quindi situazioni varie e i libri sono sempre quell'amico che si trova accanto a te e a cui tu puoi sempre affidarti in qualsiasi momento hai capito ma Tamara ho una domanda ma tu non ti senti mai in colpa terra per quanta intelligenza tutta condensata in una sola persona quanta cultura intelligenza è tutto daccene un po' anche a noi adesso non darete tutta per te daccene un po' no no per esempio no no guarda sei proprio fuoristrada perché io sono una cialtrona un po' diciamo così che è presente in alcuni settori che vabbè però cerco di sopperire alle mie mancanze attraverso appunto scrittori scrittrici pensatori pensatrici filosofi per cercare di ampliare le mie vedute ma io sono una cialtrona in fondo e allora se così è se così è mi voglio fidare di te ma diciamo che funziona benissimo funziona veramente bene Tamara Malleo grazie ricordaci dove possiamo seguirti allora venerdì alle 16 e 40 fino a di 18 Milanao canale 191 in streaming su www.mediapason.it slash Milanao o il lunedì alle 23 e 30 su Antenna 3 canale 11 grazie Fabio grazie Lorenzo buona settimana grazie a te grazie a Tamara ci si vede a teatro allora grazie a Tamara Malleo oh questa è la giornata tua Lorenzo perché te l'ha consigliato ma sto guardando infatti no ti ho visto che ho perso ma soprattutto guarda ti regalo ti regalo qualcosa che so bravissimo che so che apprezzerai alquanto Vasco Rossi vado al massimo eh questa ti piace ci sentiamo dopo piccola pausa e torniamo con voi regge 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 Liga Bue il sale della terra 8 e 35 minuti dopo Vasco ovviamente che democristiani sì sì noi mettiamo un colpo alla botte e un colpo al cerchio un colpo alla moglie no come che era la moglie ubriaca la botte piene e la moglie ubriaca no il colpo alla moglie non è proprio non è molto politicamente correcto vado al massimo e sale della terra Vasco e Liga Bue vado al sale potrebbe essere una crasi delle due mi piace la parola crasi lo dico sempre sì è vero lo dici molto spesso comunque io ho cercato quando ho detto trascende l'ho detto bene l'ho detto bene ho cercato l'ho detto bene per chi si fosse messo in ascolto solo adesso tu hai usato la parola trascende mentre parlavi del sindaco di Roma in quel caso prima di Milano prima di Milano poi di Roma e l'hai fatto praticamente più di quasi un'ora fa sì e tu hai un'ora che dicevi stotarlo nella testa perché forse ho usato trascendere e invece l'abbiamo usato bene quindi cancellate tutti quei post che avete fatto su Instagram dicendo ah l'ha usata male ha detto trascende e se leggete Andrea Baccan Baccon Baccan Baccan non dite chi perché c'è il rischio che appunto qualche primo cittadino trascenda trascenda e risponda chi sto grande artista e quindi infatti il rischio è quello ma saputo chi è Andrea Baccan Pucci ecco è il Pucci il Pucci che ha vinto l'ambrogino d'oro a proposito di ambrogino d'oro chiudiamo il discorso con questo titolo del fatto perché chi è che si è fatto il Pucci no il titolo del fatto quotidiano scusa un fattone che bastava di qua dire cose ambrogino due punti due punti il raffinato Pucci virgola bestemmiatori e lupi e lupi mannari ma con chi ce l'hanno ma soprattutto i lupi mannari chi sono non lo so vabbè detto dal fatto vabbè accadimento della Grusca a Tony ha parlato l'accadimento della Grusca a Tony alti però vabbè diciamo che no non diciamo diciamo io non so dimmi tu cosa vuoi dire non conoscendo bene i candidati non mi esprimo bellissimo non mi è piaciuto però appunto bestemmiatori lupi no bestemmiatori lupi mannari non ho capito il raffinato Pucci ci sta non saranno sicuramente gli unici gli amici del fatto quotidiano ma lo dice anche lui lo sa di non essere proprio diciamo un uomo di cultura alta diciamo infatti lo sa ne ha fatto un'icchietta ma meno male che non c'è solo la cultura alta per carità entra in Bovisa la cultura non alta ma è nata questa idea qua della Bovisa rossissime chiusa non esiste ah non esiste non esiste più io non lo so però da piccolo si sentiva un clima diverso sentivano canzoni diverse suonare alla radio quando c'erano le due chiese quando c'erano le due chiese va bene c'erano queste bandiere rosse che sventolavano alte sulla Bovisa restiamo su Milano restiamo su Milano non andiamo nello specifico dalla Bovisa Milano vogliamo volo d'uccello su Milano ormai tra notizie serie sicurezza non sicurezza poi commenteremo alcuni dati eccetera ogni tanto diamo anche una bella notizia di spettacolo si di spettacolo che non è ebriatore che viene derubato da Casalegno ma nuovo mega concerto annunciato per gli high days del 2024 all'ippodromo la Maura quindi quello di treno i metalli che appunto si aggiungono è green day nella rassegna high days quindi buon dovranno stare però dentro il numero massimo di concerti e tutto sappiamo che il prossimo anno c'è questa storia no? si si ebbè immagino abbiamo stati attenti adesso a parte che penso che per prenotare l'ippodromo la Maura tu lo debba prenotare un anno infatti c'era questo tema qui che loro hanno messo il vincolo a 39 concerti ma c'erano le prenotazioni già fatte come se tu vai prenotare il tuo bel alberghetto la tua bella pensioncina vista mare a Pietraligure che si sa che tu vai sempre lì la tua aspirazione massima non me ne vogliono gli amici di Pietraligure ci ho fatto 22 anni della mia vita ma poi all'ultimo secondo dicono guardi abbiamo avuto ben 48 milanesi sto mese e il limite è 45 quindi torni a casa sua e poi ho già prenotato ciubbia e poi l'abbiamo bella vista non è che posso andare ad albenga ma giustare a Pietraligure a Pietraligure sono andato in colonia come metà dei ragazzi milanesi pensa anche mio papà andrà in colonia per la struttura penso che sia rimasta lo stesso lui è nato nel 1949 tu in che anno sei nato ma infatti immagino che la struttura sia veramente la stessa perché io me la ricordo abbastanza così ecco diciamo non decadente vintage vintage chabby chic si usa anche come termine allora adesso andiamo con la musica invece se volete su Sky c'è uno speciale si chiama Elodie Show un'ora e mezza con Elodie molto interessante si vede anche una parte un po' più inedita dell'artista della bravissima artista italiana quasi internazionale a tratti dico la bestemmia a tratti se la si confonde un po' con Beyoncé devo dire la verità la struttura dello spettacolo devo dire che è molto molto simile e lei devo dire tiene bene il paragone orgoglio orgoglio della nostra italianità anche con tutto quello che poi porta in realtà Elodie lo racconta anche molto bene all'interno del suo racconto anche col suo passato la famiglia alle spalle c'è un intervento anche di Big Mama ma dateci un'occhiata insomma e se poi vi piace ascoltatelo anche qui adesso Elodie affari spenti su Crystal Radio alle 8.41 Good morning Milano Elodie 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 affari spenti abbiamo ancora un po' di notizie abbiamo ancora un po' di notizie cioè ci allontaniamo proprio di qualche chilometro da Milano perché come sapete uno dei grandi temi di Milano soprattutto in seguito alle esondazioni di qualche settimana fa è il consumo di suolo tu sai qual è chi detiene il comune che detiene il record di consumo di suolo Milano? no Lissone ah Lissone quindi siamo in Monza Briazza comunque cioè letteralmente a 10 minuti da Milano alle porte 70% di suolo già occupato che potrebbe raggiungere il massimo se verrà realizzata anche la piede montana però 70% di suolo ok magari non avrà il problema delle esondazioni però ma no non lo so perché lì se piova una goccia d'acqua non si doveva finire cioè è praticamente impermeabile Lissone infatti ieri il Politecnico di Milano e qua ci ricolleghiamo ha organizzato una conferenza con Paolo Pileri per sostanzialmente discutere di questa problematica che coinvolge il comune della Monza Briazza ma lì non è molto semplice è veramente tanto come sapete è uno dei grandi temi che ha a che fare con il sostanzialmente ma come fai lì devi togliere la pavimentazione non mi viene un termine come si dice o per esempio non costruire la piede montana eh sì ho capito sarebbe già qualcosa e poi da quel punto da settanta sarebbe a ottanta e quindi un attimo esatto mentre riportiamo il fatto che nel corso di oggi il sindacato unitario lavoratori polizia locale potrebbe potrebbe al momento come i grandi artisti quando vuole pubblicizzare il nuovo album o la nuova canzone fa tipo dei teaser ecco in questo caso il sindacato unitario lavoratori polizia locale pubblica lo screenshot del giorno Milano in cui si dice che potrebbe esserci appunto a Sant'Ambrogio lo sciopero dei vigili urbani perché al centro c'è la discussione appunto come sapete tra i comuni e i sindacati è ben lontana dall'essere risolta sui turni notturni e gli accordi contrattuali che devono essere chiusi ha fatto un out-out il sindaco entro inizio 2024 domanda ma domani non c'è lo sciopero generale non potevano fare lo sciopero domani però da quello che si apprende potrebbe esserci c'è un sciopero specifico del sindacato appunto ripeto un'Italia della polizia locale Milano se fanno sciopero tutti e fanno sciopero nessuno non capisci chi lo fa quindi domani lo fanno tutti così e poi lo fanno anche per questa specifica situazione a Sant'Ambrogio adesso io sollevo solamente una questione Sant'Ambrogio Milano a parte che non c'è nessuno in giro fino alle 16 ma solo te lo dici più turisti e più ero dopo le 16 hai un'idea troppo romantica ancora di Sant'Ambrogio tu secondo me dopo cosa succede che sostanzialmente aiutami non me l'ho perso il fiero c'è troppa gente in giro e non ci sono più vigili dopo prima della scala eh infatti ci sono appunto le premiazioni lì quella mattina comunque sostanzialmente serve la polizia locale in giro ma sì ma credo che infatti possono essere precettati dico la verità una giornata come il 7 Milano credo che il prefetto possa precettare capiremo se ci sarà il comunicato nel futuro prossimo o meno vedremo come va a finire staremo a vedere perché qui è sempre così ogni cosa che diciamo poi finisce con e adesso vedremo come va a finire poi dopo la metà delle cose ci dimentichiamo di controllarle l'altra metà delle cose non esistono quindi vabbè è interessante vedere come le notizie sono sempre un po' particolari vabbè musica 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 maestro anzi musica madame perché con la sua voce adesso ci fa compagnia qui a Cristal Radio madame con voce madame con voce 8 e 51 minuti lorenzo siamo quasi la terra fine abbiamo ancora una canzone possiamo mandare vai allora sentiamola visto che questa sera è giovedì oggi giovedì questa sera c'è X Factor ci ascoltiamo la Francesca Michelin la Francesca mi chiamo così che il Fedez dice perché il Fedez dice un bravo alla Franci un applauso alla Franci chiude sempre così la puntata parla così Fedez secondo me parte la querela comunque ascoltiamo Francesca Michelin chiamami per nome insieme a Fedez